omicidio di natale via il processo per vito cangini nuovo ospedale il consiglio comunale approva l'accordo di programma alla scuola brancati la prima aula wwf delle marche servizi estivi per l'infanzia il comune investe 100 mila euro nuova legge regionale a tutela delle vittime del dovere buonasera cari telespettatori e care telespettatrici di rossini tv per questa nuova edizione delle rossini news telegiornale di martedì 17 di maggio che apriamo con la cronaca giudiziaria che ci riporta ad occuparci dell'ultimo omicidio avvenuto nella nostra provincia quello della notte fra natale santo stefano a fanano di gradara dove la sessantenne natalia è stata uccisa coltellate dal marito vito cangini per il quale parte domani il processo al tribunale di pesaro vediamo il primo servizio domattina nelle tribunale di pesaro parte in assise il processo a vito cangini accusato di omicidio volontario e reo confesso per la brutale uccisione nella casa di fanano della moglie natalia chiricoc ammazzata a coltellate a 61 anni dopo che da 14 anni era sposata con l'ottantenne romagnolo di sarsina da tempo trasferito nella frazione di gradara si tratta dell'ultimo omicidio verificatosi nel territorio provinciale fu un femminicidio sconcertante avvenuto in una notte molto particolare come quella fra natale santo stefano e contornata da ghiaccianti futili motivi come del rifiuto della donna a fare sesso dopo una presunta promessa di rapporto intimo emersa dall'interrogatorio a cangini una promessa non mantenuta che scatenò un raptus d'ira nell'uomo degenerata fino all'uxoricidio con sette coltellate molte delle quali al petto e al cuore della donna natalia era di origine ucraina e lavorava come cameriera in un ristorante di misano adriatico cangini l'ha uccisa all'apice di mesi di gelosie e paranoia di tradimento l'uomo passò la notte fra natale santo stefano dormendo a pochi metri dal cadavere della moglie uccisa per poi trascorrere il 26 dicembre portando a spasso il cane assumendo alcolici in giro per il paese e rivelando il delitto ad un vicino di casa e al titolare delle ristorante di natalia i carabinieri arrivarono nella casa di fanano trovando il corpo della donna morta sul pavimento e cangini ad attenderli confessando tutto nell'interrogatorio di garanzia cangini confermò il delitto e dopo la reclusione nel carcere di villa fastigi lo scorso mese è arrivata la richiesta di giudizio immediato che oggi si traduce nel via al processo in assise oggi 17 di maggio è la giornata contro l'omofobia la transfobia e la bifobia un appuntamento che nelle ultime ore è stato accompagnato dalla polemica politica scaturita da un post apparso sulla pagina facebook dell'assessore regionale all'istruzione giorgia latini che ha scritto no alla teoria gender nelle scuole l'assessore si è infatti scagliato contro la circolare di maria assunta palermo direttore generale del ministero dell'istruzione nella quale ha invitato le scuole a creare occasioni di approfondimento con i propri studenti sui temi legati alle discriminazioni al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali secondo la latini con questa circolare il ministero si sostituisce al parlamento approvando parte del ddl zanne bocciata ottobre dal senato tante le reazioni darci gay agorà ad articolo 1 dalla consigliera regionale marta ruggeri all'assessore comunale camilla murgia indispettite dal vedere stigmatizzare un comportamento che tende a discriminare il dibattito sui diritti in questione sanità ed edilizia ospedaliera sono stati i temi al centro del consiglio comunale di ieri in cui è stato approvato l'accordo di programma con gli impegni del comune per la realizzazione del nuovo ospedale a muraglia vediamo aspettando il crono programma della regione il consiglio comunale apparecchia la sua tabella di marcia per il nuovo ospedale di muraglia l'accordo di programma per la realizzazione dell'ospedale è stato infatti il tema centrale della seduta consigliare di lunedì un accordo di programma che arriva a 12 giorni di distanza dal consiglio monotematico sulla sanità tenutosi alla presenza del presidente della regione acquaroli e che ieri ha visto l'assise approvare all'unanimità l'intesa con 25 voti favorevoli e 8 assenti tra le assenze oltre a quella del sindaco ricci indisposto per la positività al covi 19 si sono sfilati dalla votazione alcuni consiglieri della lega come giovanni dall'asta francesco totaro e andrea marchionni l'accordo di programma definisce gli impegni di comune di pesaro regione marche asur e azienda ospedaliera marche nord per realizzare il nuovo ospedale e ricollocare le strutture al fine di garantire la continuità dei servizi tra i compiti dell'amministrazione pesarese ci sarà quello di realizzare un parcheggio di 300 posti auto complessivi che prevederà due stralci di lavoro così come prevista la messa a disposizione della residenza protetta casa roverella che è di proprietà comunale e in concessione al consorzio sociale santa colomba per trasferire lì la rsa tommasello l'impegno della regione marche prevede la copertura di tutte le spese per la progettazione e realizzazione del nuovo ospedale di muraglia così come la risoluzione delle interferenze idrogeologiche e sempre all'interno del consiglio comunale di ieri è stato approvato il progetto per la realizzazione della prima aula natura wwf delle marche per maggiori dettagli vediamo il prossimo servizio niente pareti o finestre a lezione si andrà fra pini siepi e stagni il consiglio comunale di pesaro ha infatti approvato ieri all'unanimità la realizzazione dell'aula natura wwf che interesserà l'istituto comprensivo livieri e in particolare la scuola brancati l'approvazione è il risultato di una mozione presentata dai consiglieri del partito democratico anna maria mattioli e giampiero bellucci e recepisce l'attenzione di wwf italia per la realizzazione di strutture didattiche all'aperto volte a conciliare natura e esigenze di distanziamento sociale e di salubrità dell'aria wwf è reputato meritevole d'attenzione un'area particolarmente colpita dai contagi come il pesarese è un istituto pluripremiato a livello di ecosostenibilità come la scuola brancati è passato in consiglio di istituto all'unanimità proprio perché dopo due anni di pandemia chiaramente tutto il corpo docente ha ritenuto la proposta molto valida perché va a portare delle dell'innovazione dal punto di vista diciamo dell'ecologia della sostenibilità e dell'educazione quella che sorgerà nel quartiere pantano sarà la prima aula natura delle marche già individuata all'area di collocazione di un progetto che wwf realizzerà a titolo gratuito individuare un'area di circa 80 metri quadrati all'interno del parco palatucci che si trova nella zona di via la marmora e questa zona che è già ben recintata non avrà necessità di diciamo di grandi modifiche solo un punto acqua perché verrà realizzata completamente appunto dalle wwf italia il valore di quest'aula è di 15 mila euro completamente a titolo gratuito che viene donato verrà realizzato appunto dicevo un uno stagno al centro di quest'aula un piccolo stagno con degli habitat per diciamo lo studio di microrganismi poi ci saranno dei bike hub un'area per la l'osservazione della vita delle farfalle e verrà realizzato anche una una siepe diciamo di di separazione e delle dei tavoli didattici anche delle delle tavole diciamo di orientamento oggi il comune di pesaro ha messo in campo un'operazione straordinaria da 100 mila euro rivolta ai servizi educativi estivi un investimento strategico rivolto alle famiglie più fragili per un'estate di ripartenza vediamo l'operazione testimonia quanto questo comune sia vicino alle famiglie e sensibile a quelli che sono i bisogni delle famiglie dei bambini di una fascia particolare 0 6 anni l'epoca del covid aveva un po modificato quelle che sono le abitudini non solo delle famiglie ma anche le abitudini quotidiane di sviluppo della della lezione e della scuola all'interno del sia delle scuole dell'infanzia che dei nidi e quest'anno l'operazione che abbiamo messo in campo è davvero straordinaria già poche settimane fa abbiamo avuto la forza di aprire un nido in più capace di ospitare di accogliere 50 bambini della fascia 03 fascia che riceve oltre il contributo IMSS anche la possibilità quindi di frequentare le nostre scuole e con un numero maggiore di ricettività e con quella che è l'operazione di questa mattina anche un contributo per quella che è una fascia che non è mai stata come posso dire interessata dal contributo già messo in campo per la fascia 614 da diversi anni e quindi sarà un contributo per frequentare le scuole paritarie convenzionate con i servizi educativi e tutti i centri estivi che si sono registrati regolarmente quindi accreditati al servizio è un'operazione straordinaria perché perché in questo momento di spending review di grande incertezza di aumento di quelli che sono i costi anche delle materie prime un comune che investe il proprio bilancio in quelli che sono i servizi educativi e un aiuto concreto alle famiglie colpite dalla crisi economica e non solo è sicuramente una risposta tangibile e reale per tutte le famiglie della città pensiamo che con il contributo possa essere destinato a circa 200 250 bambini che rappresentano la quasi totalità delle richieste che sono arrivate fino a oggi ai nostri uffici la graduatoria per i servizi estivi di frequentazione delle nostre scuole sarà disponibile alla fine di questa settimana contemporaneamente verrà aperta la pagina con la possibilità online chiaramente di richiedere il contributo per la fascia 3.6 le fasce di reddito che possono fare richiesta sono le fasce fino a 15.000 euro una cifra pensata perché l'ise di riferimento quindi di quest'anno fa si riferisce in realtà all'ise del 2020 un anno molto particolare in cui anche le famiglie hanno vissuto situazioni economiche molto complicate e che è frutto anche di un'analisi di quello che è la totalità delle famiglie della nostra città che hanno già presentato l'ise magari per frequentare altri servizi sempre educativi e quindi abbiamo monitorato controllato e risposto davvero un'esigenza reale delle famiglie. È un'operazione che però pensate di promuovere anche in futuro non solamente nel 2022? Sì è un'operazione che ci piacerebbe poter consolidare io penso che oltre alla straordinarietà come dicevo dell'operazione è anche un'operazione virtuosa perché insieme al contributo si dà la possibilità e si incentiva anche il lavoro di tanti operatori della città che lavorano durante i mesi estivi in quelli che sono poi tutti i servizi destinati alla prima infanzia e anche alle fasce di età più alte. Grave incidente stradale intorno alle 21 di ieri sera che ha visto due auto scontrarsi sulla strada nazionale Flaminia tra Lucrezza e Cucurano di Fano. Un forte impatto in cui entrambi i mezzi sono rimasti gravemente danneggiati nella parte anteriore. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto liberando i conducenti dalle lamiere affidandoli poi alle cure del 118. Le persone coinvolte sono poi state trasferite in elicottero con codice rosso all'ospedale regionale di Torrette dove le loro condizioni sono state ritenute serie ma stazionarie. Sopralluogo sul posto dell'incidente anche della polizia stradale alla quale ora aspetterà chiarire dinamiche e responsabilità. Ora l'immagine che vi mostriamo raffigura un assalto da parte di alcuni lupi ai danni di un allevamento di pecore nella zona di Cagli e Cantiano. Il bilancio dell'ultima settimana nell'area dell'Alto Pesarese di quattro capi uccisi tra pecore e cavalli ed ora la prassi prevede un risarcimento danni per ogni animale ritrovato senza vita ma dati alla mano la cifra basta a stento per coprire le spese di smaltimento delle carcasse. Il Consiglio regionale ha oggi approvato una legge che tutela le cosiddette vittime del dovere. Vediamo di cosa si tratta attraverso le interviste ai consiglieri Nicola Baiocchi e Marta Ruggeri. L'Assemblea legislativa regionale ha approvato oggi una proposta di legge a tutela delle cosiddette vittime delle dovere, vale a dire gli appartenenti alle forze armate, forze dell'ordine, vigili del fuoco e polizia locale che nel corso dello svolgimento della loro mansione sono andati incontro a infermità permanente o nei casi peggiori al decesso. Una proposta di legge che ha avuto il consigliere peserese Nicola Baiocchi fra i relatori firmatari. Una proposta di legge molto importante che racchiude in realtà tre proposte di legge, una presentata come primo firmatario dal consigliere Marco Ausili, una dalla consigliera Marta Ruggeri e una dal presidente Dino Latini. È un insieme di proposte veramente interessanti, veramente strategiche per questa regione perché vanno a ribadire qual è il concetto, la vicinanza che questa regione ha nei confronti dei soggetti che sono vittime del dovere e quindi un passo importante di riconoscimento sui valori fondanti di questa regione come della nostra nazione, della democrazia, della legalità e quindi questo aiuto va nei confronti delle famiglie di queste persone, nei confronti di questi soggetti che eventualmente sono rimasti avuto di posto invalidanti e va a denotare qual è veramente l'attenzione da parte di questa regione verso queste persone che danno veramente un aiuto e garantiscono i principi di legalità e di sicurezza all'interno della nostra nazione e della nostra regione. La proposta di legge riconosce indennità e agevolazioni ai familiari delle vittime del dovere per un valore di 40.000 euro nelle 2022. Nella legge sono previste borse di studio dalla scuola primaria all'università per i figli delle vittime del dovere che prestavano servizio nelle marche. Famiglie che beneficeranno anche delle esenzioni di ogni spesa medica e farmaceutica. La legge ha integrato anche la proposta del Movimento 5 Stelle di includere la polizia locale nelle tutele in questione. La nostra proposta prevedeva che oltre alle vittime del dovere e oltre alle categorie che fanno parte della legge nazionale ci fosse anche la polizia locale. Mi fa piacere che sia stata accolta questa nostra proposta, quindi la nostra legge regionale avrà appunto anche la polizia locale tra coloro che verranno, se caduti durante l'espletamento del proprio dovere, risarciti. La nuova legge indice anche la giornata regionale in onore delle vittime del dovere e la giornata regionale delle vittime del terrorismo individuata nella data del 9 maggio. E concludiamo con lo sport perché questa sera vi ricordiamo che alle ore 20 e 30 alla Sega Fredo Arena di Bologna, la Carpegna Prosciutto Pesaro sfiderà la Virtus in gara 2 dei quarti di finale play-off. Si riparte dall'82-76 di gara 1 e dall'1-0 per Bologna nella serie. Coach Banchi alla vigilia delle match ha detto che si riparte dalla consapevolezza che per competere bisognerà alzare ancora di più il livello della prestazione, li mando errori che possano costare break difficili da colmare. Nel Tg di domani vi mostreremo immagini e commenti di questa attesa gara 2. E con le notizie di sport si conclude questa nuova edizione delle Rossini News. Prima di salutarci però vi ricordo gli appuntamenti in serata perché questa sera alle ore 20 e 10 potrete seguire lo speciale realizzato in occasione del convegno organizzato da confartigianato e che si è tenuto a Fano sul tema del credito per micro e piccole imprese. E poi vi ricordo che questa sera alle ore 21 e 20 dunque a seguire come tutti i martedì ci sarà qua la Zampa con replica poi nel corso della settimana. E poi come tutte le mattine alle ore 7 e 20 anche dunque domani mattina mercoledì ci sarà in diretta Buongiorno Rossini la lettura dei quotidiani della provincia di Pesaro e Urbino. E con questo è veramente tutto vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata. Grazie. Grazie.